E' tempo di parlare, è tempo di parlare di questo fantomatico tabellone, è stato composto ieri sera al 100%, ogni casella al proprio posto e quindi ci siamo adesso. L'Italia è stata fortunatissima ma, con un grosso ma, prima però di dirvi quale è questo ma e di snocciolare tutta quanta la questione facendo anche perché no un pre-partita della gara con la Svizzera, iscrivetevi, like e commento qui sotto che è fondamentale, mi raccomando fatelo per vedere chissà se mai dovessimo andare anche avanti pure qualche altro pre-partita di qualche partita succulenta dell'Italia. Detto questo, allora, indubbiamente, lo ripeto, l'Italia è stata molto fortunata sotto due aspetti, il primo ha passato il turno quando secondo me non lo meritava più di tanto e l'ha passato in una maniera clamorosa perché lì per lì abbiamo dato sì un grosso peso al gol di Zaccagni perché ci ha alleggerito un po' la tensione, perché ha detto ok magari passavamo comunque però questo gol ci risolve la vita, cioè ce la semplifica e invece a conto i fatti ieri sera abbiamo scoperto che senza quel gol al 98esimo non saremmo passati, quindi quel gol è stato pesantissimo ed è stato anche frutto un po' in qualche modo di fortuna perché sì è vero l'Italia ci ha messo il cuore e tutto quanto però è stato un gol bellissimo sia Calafiori che Zaccagni strepitosi nel gol però sicuramente arrivare a fare un gol così importante al 98esimo ecco c'è un po' di fortuna, poi sì la retorica delle partite che durano 150 minuti è tutta vera, è tutta vera però sicuramente non si può dire che l'Italia non sia stata fortunata in questo girone se vai a vedere, perché? Perché comunque riesce a risollevarsi contro l'Albania anche se poi al 90esimo rischia e c'è Donnarumma, con la Spagna soffre tantissimo e anche lì c'è Donnarumma, con la Croazia rischi il tracollo e ti risollevi fai gol all'ultimissimo secondo di un recupero infinito, quindi sicuramente non ci ha girato contro nulla, veramente nulla, poi sì strepitoso Donnarumma, brava l'Italia però sicuramente fortunata a passare il turno e fortunatissima, fortunatissima a capitare nella parte destra del tabellone ovvero nella parte in cui non c'è secondo me nessuna delle top 4, se vogliamo metterla così, senza allargarci troppo comunque delle squadre in questo momento più forti e più temute di questo europeo, perché l'Italia capita ovviamente con la Svizzera e adesso ci arriviamo anche alla Svizzera, però capita nella parte di tabellone in cui ci sono Romania, Olanda, Austria, Turchia, Inghilterra, Slovacchia e per l'appunto la Svizzera dall'altra parte per dirvi ci sono Spagna, Georgia, Germania, Danimarca, Portogallo, Slovenia, Francia e Belgio quindi capite bene che è un po' più complicato, ecco, che non è proprio la stessa identica cosa secondo me e che l'Italia è stata veramente molto molto fortunata a capitare dall'altra parte poi bisogna anche dire che l'Italia ha sempre avuto una grande sfiga nei sorteggi, nei gironi e anche negli accoppiamenti mi ricordo per esempio l'emblema di questo, Euro 2016 Euro 2016 l'Italia passa inaspettatamente in un girone di ferro contro il Belgio e passa da prima e passando da prima invece di essere agevolata viene, la sua vita viene complicata rispetto al Belgio che passa secondo e viene graziato perché l'Italia dopo il girone della morte col Belgio in cui la Svezia che erano due ottime squadre tant'è vero che dopo un anno con la Svezia andò come andò l'Italia va a affrontare la Spagna passa il turno con la Spagna, va a affrontare la Germania Germania poi esce, se fosse passata, Germania vi ricordo campione del mondo in carica se fosse passata avrebbe preso la Francia, la Francia patrona di casa, è fortissima, è strafavorita in quel torneo quindi era veramente un cammino impossibile dall'altra parte il Portogallo ha avuto una vita talmente facile da essere quasi imbarazzante e chi ha vinto il Portogallo? E qualcuno si ricorda, qualcuno svaluta il Portogallo che ha vinto quell'europeo? no, tutti lo ricordiamo come sicuramente una squadra fortunata anche in finale perché la Francia assiediò il Portogallo per 120 minuti il Portogallo con Eder, fra l'altro anche senza CR7 che si ruppe subito con Eder fece un tiro in porta, gol e tutti a casa però nessuno tende a svalutare quell'europeo del Portogallo anzi, nonostante il cammino fosse stato facilissimo nonostante avesse avuto una fortuna sfacciata ai gironi passando con tre pareggi neanche una vittoria da ripescato quindi però Portogallo si è portato a casa quell'europeo in maniera secondo me anche commovente perché comunque la partita con la Francia al Saint-Denis fu un qualcosa di assurdo però tanta roba tanta roba e vi ripeto nessuno tende a sputare su quell'europeo soprattutto in Portogallo, tantomeno in Portogallo comunque per quanto riguarda poi la partita con la Svizzera io non la sottovaluto vi ho sempre detto che secondo me la Svizzera è un'ottima squadra lo ribadisco, ha tutte quante le carte in regola per fare molto bene per arrivare anche, non dico fino in fondo però se andiamo a vedere le squadre che ci sono le più forti diciamo in questo momento sarebbero l'Olanda, l'Italia e l'Inghilterra secondo me la Svizzera se la gioca tranquillamente non dico alla pari ma poco ci manca con tutte e tre l'Italia è un caso particolare perché l'Italia a livello tecnico non è male è nettamente sopra la Svizzera la Svizzera però ha un grandissimo spirito ha un grandissimo animo di squadra che l'Italia non ha mostrato fino al settantesimo della partita con la Croazia poi sì, quel finale pazzo bisogna vedere quanto sia stato istinto di sopravvivenza e quanto sia stato invece carattere di squadra è presto per dirlo e secondo me la partita con la Svizzera ci fornirà un quadro più dettagliato su questo sicuramente la squadra ha sofferto moltissimo una confusione di Spalletti perché è innegabile che Spalletti non abbia dato in qualche modo stabilità alla Rosa ha cambiato molto ha cambiato interpreti e modulo in maniera abbastanza confusa e lo sappiamo tutti perché tutti ce ne siamo accorti e secondo me anche la squadra stessa se ne accorta ed è rimasta spiazzata da questo continuo e repentino cambio di lotta sia degli interpreti che del modulo e non è stato un cambio come si può dire camaleontico per modellarsi all'avversario è stato un cambio dettato dalla confusione che Spalletti ha avuto in questo europeo però come ho sempre detto dagli ottavi in poi comincia un'altra competizione comincia un altro europeo non è detto che l'europeo che si è appena concluso ovvero la prima fase dell'europeo sia lo stesso europeo che vedremo adesso vi ripeto tutto sta secondo me nel trovare l'animo della squadra perché se l'Italia gioca anche se è più forte senza anima come ha giocato con la Spagna e per tre quarti con la Croazia usciamo senza alcun problema e senza neanche discuterne perché oltretutto la Svizzera c'è sotto tecnicamente ma non parliamo comunque del non lo so del Burundi con tutto il rispetto parliamo di una squadra comunque valida valida ed è molto organizzata tatticamente tant'è vero che con la Germania ha fatto un partitone concedendo pochissimo ad una squadra che era in palla che era in forma segnando due gol uno annullato per un niente veramente quindi la Svizzera è un'ottima squadra ce la ricordiamo molto bene perché se non siamo andati in mondiali è anche per i due disastri combinati contro gli svizzeri sia lì che qua a Roma non lo so io non sono così tanto fiducioso nel senso che non ho così tanta fiducia tanti dicono l'Italia arriverà in finale ecco secondo me è un po' azzardato io non la vedo così spianata la strada nel senso che sì è molto facile è sicuramente più facile di quanto si potesse pensare ed è molto più facile che se fossimo capitati dall'altra parte della classifica ma è l'Italia che mi spaventa più di qualsiasi altro avversario l'avversario che a me spaventa è proprio l'Italia cioè per l'Italia è l'Italia che mi spaventa perché secondo me sì se giochiamo come tre anni fa o se giochiamo anche come l'Italia di Conte che sono due Italie passatemi il termine che hanno avuto un carattere fortissimo anche se erano più scarse secondo me di questa non ce n'è per nessuno l'Italia è già in finale il problema è che non ho visto in tutti questi mesi di spalletti dall'inizio fino a 20 minuti dalla fine della partita con la Croazia non ho visto quello spirito che secondo me è veramente la miccia che poi ti fa andare a vincere questi europei dall'altra parte comunque ci sono tutte le squadre più forti secondo me c'è la Francia c'è la Spagna c'è la Germania e c'è il Portogallo a sorpresa il Belgio di tedesco non ce lo metto perché mi ha deluso e mi sta deludendo l'Inghilterra è una squadra che sta facendo secondo me malissimo anche se pure per loro vale lo stesso identico discorso ovvero che subentrano poi motivazioni nuove l'Olanda è una squadra come sempre tecnicamente forte ma che mostra ogni volta dei limiti nei momenti clou nei momenti decisivi quindi non lo so Jacin il CT della Svizzera c'ha un po' snobbati secondo me c'è un fondo di verità in quello che ha detto ha detto molto banalmente che se temeva lui e la sua Svizzera l'Italia lui ha detto forse è vero il contrario spendendo poi anche buone parole per l'Italia però secondo me è vero in questo momento per me per me se dovessi puntare un euro ora non so i bookmakers però se dovessi puntare un euro io lo punterei sulla Svizzera perché fa tanto tanto più la squadra e il gruppo che la tecnica e l'Italia in questo momento ha un gruppo che ha una tecnica meglio che non è neanche troppo male ma un gruppo che è un grandissimo un enorme punto interrogativo certo bisogna ripartire da quelle poche certezze secondo me che l'Italia ha ovvero due Donnarumma e Calafiori e poi Fossi Spalletti io personalmente confermerei la difesa 3 con un cambio fondamentale in cabina di regia Fagioli al posto di Giorginio e con centramanti Scamacca il resto anche la carta chiesa la carta frattesi si possono tenere pure per la partita in corso e con questo passo e chiudo iscrivetevi like e commento qui sotto ciao ciao